salve a tutti ragazzi sono z willy x e purtroppo neanche chi è su console può giocare serenamente per il momento parliamo solo dei giocatori xbox io spero che questa cosa non uscirà anche su playstation stavolta il problema non è per chi gioca su pc e soprattutto non è un problema riguardante gta online ma è un problema che riguarda tutto il sistema di xbox live quindi account xbox e non sto dicendo gta online su xbox ma proprio xbox in generale quindi un problema dove potete perdere completamente l'account xbox in qualsiasi gioco multigiocatore della piattaforma di xbox anche se poi tramite questi video di youtubers americani e tweet sono venuto a sapere che i creatori di questa cagata sono giocatori di gta online in ogni caso parliamo di un problema che riguarda tutto xbox live sono delle voci dove a quanto pare alcune persone hanno scoperto un exploit in grado di farvi bannare l'intero account xbox per sempre questo significa che se vi bannano l'account xbox si perdrete tutti i progressi tutti gli obiettivi e la cosa ancora mille volte peggiore tutti i giochi digitali che avete comprato oltre al fatto dell'abbonamento xbox generalmente una sospensione regolare si mostra così dove appunto la microsoft ci spiega che l'account ovviamente non può accedere ai servizi le ragioni del ban e i dettagli specifici che hanno portato al ban dell'account quindi in questo caso ad esempio una brutta parola inviata tramite messaggi oltre che a 4 tra virgolette semplici giorni di ban e questo sia chiaro è un esempio di ban regolare quando invece tramite l'exploit vi spammano di segnalazioni questo è quello che succede al vostro account tre ban temporanei il vostro account senza dettagli senza motivi niente di tutto questo dove successivamente vi porta ad essere ferma bannati senza motivi in particolare quindi si bannati per sempre questa è l'immagine di una persona che possiede questo exploit in un party xbox con le varie opzioni tra cui l'opzione di ferma mannare un account in party in sostanza questa opzione bypassa il tempo di attesa che blocca le segnalazioni di un giocatore e riesce a spammare di segnalazioni l'account mirato da chi possiede questa cagata riuscendo a mandare anche decine se non centinaia di segnalazioni nel giro di pochi minuti ora non so se effettivamente le voci si sono ingigantite abbastanza da dire che il problema avviene se siete in party con degli sconosciuti una parte dice che il problema accade anche senza essere in party con nessuno poi c'è invece un'altra parte di giocatori che dice che in realtà questo problema avviene se siete in party con degli sconosciuti in ogni caso ciò che consiglio di fare se volete stare tranquilli 99 per cento in questi periodi è di giocare a qualsiasi gioco multigiocatore su xbox in privata con i mostri amici o comunque da soli ovviamente evitare lobby pubbliche e così via se poi volete giocare contro altri giocatori a giochi pvp e cose simili ovviamente il rischio c'è sempre seppur basso inutile dire comunque di evitare assolutamente di entrare in party con persone sconosciute che magari vi invitano ma soprattutto di non far incazzare nessuno e di evitare litigi se magari state facendo il culo a qualcuno su qualche gioco ignorate messaggi persone che cercano rogne fatevi i cavoli vostri e ripeto non parliamo di città online ma di un problema xbox vero e proprio non so neanche dirvi se effettivamente la microsoft se vi ferma banna comunque considera i vostri ricorsi a quanto pare no la stessa cosa vale anche per l'activision che se ne lava le mani pure se vi siete fatti bannare da un hacker e credo più o meno la stessa cosa pure per la sony cosa che ho anche provato sulla mia pelle visto che più di due anni fa hanno permavannato il mio account psn e non l'ho più rivisto da allora chiaro non per motivi simili comunque una ragione c'era fatto sta che fa paura il fatto che oggi come oggi molte compagnie se ne lavano le mani e non vi ascoltano neanche se siete stati bannati senza motivi particolari e spero vivamente che microsoft dimostrerà di essere diversa dalle altre compagnie di gioco ma a quanto pare non è proprio così perché la persona bannata tramite questo exploit non è neanche stata ascoltata dove microsoft ha automaticamente rifiutato il ricorso chiaro è che poi il discorso non vale solo per videogiochi ma anche per instagram mi ricordo che c'era uno youtuber italiano che tratta wwe su youtube dove fu bannato su instagram per sempre da allora non ha più rivisto il suo account indietro poi non l'ho più seguito non so neanche se l'ha riavuto indietro lo youtuber in particolare a cui mi riferisco si chiama certified y poi tralasciate il mio bandi due anni fa quello ci sta comunque una ragione c'era e la cagata l'ho pagata anche troppo ma più per il fatto che porca miseria tutte le compagnie neanche provano ad ascoltarti quando vieni bannato è assurdo cioè è incredibile in ogni caso mi auguro con tutto il cuore che microsoft venga a sapere del problema e che soprattutto venga incontro a chi è stato permabannato per cagate simili anche per mostrare ai giocatori che comunque nel bene o nel male provano perlomeno a leggere i vostri ricorsi perché se no ve lo dico subito siamo tutti quanti nella merda da z willy x è tutto noi ci sentiamo al prossimo video ciao 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 ciao